Partiti, sesta corsa in programma, 54esimo Gran Premio Sardo sulla distanza dei metri 2.400 riservato a anglo-arabi qualificati a fondo inglese. Powell apre le ostilità su Panferos Baio che ha all'esterno preziosa Penelope, cavalli che affrontano la piegata che i mette in dirittura per il primo passaggio con Powell. Al comando, Powell su Periclea, Panferos Baio, Pirata dei Sedini, preziosa dei Sedini, questo l'ordine quando i cavalli si mettono in dirittura per il primo passaggio davanti alle tribune con Powell che mantiene lo stecato, Panferos Baio al suo esterno, preziosa Penelope, Pirata dei Sedini, Pressing de Mores avanza per corsia esterna con all'interno preziosa dei Sedini, Periclea, cavalli in seconda piegata, affrontata al comando da Powell su Panferos Baio, preziosa Penelope, avvicinata all'esterno da Pirata dei Sedini che la appariglia completamente, tende a passare e si porta in terza posizione, scivola in quarta, preziosa Penelope, cavalli lungo la retta opposta dove prova l'allungo Powell a traguardo lontano, si avvicina il numero nove, Pirata dei Sedini, Powell Pirata dei Sedini, mentre riparte Periclea con all'esterno Profondo Rosso che si porta sui due di testa, aumenta l'andatura Profondo Rosso, prova in scia anche, prova d'amore che si porta in quarta posizione, allunga intanto il Battistrada Pirata dei Sedini per portarsi al comando, mentre cede posizioni Powell richiamato alla frusta e Profondo Rosso si porta in seconda posizione, progredisce all'esterno, prova d'amore, cavalli che si presentano indirittura con al comando il numero nove, Pirata dei Sedini, Pirata dei Sedini che conduce nei confronti di Profondo Rosso in seconda posizione, cento conclusivi con Pirata dei Sedini, facilissimo, Pirata dei Sedini risolve, non ce n'è per nessuno, viene a vincere facilissimo su Profondo Rosso, mentre al terzo posto il numero due Paristoria precede il compagno di lavoro Periclea, si attende l'ordine ufficiale.